Grazie a tutti Il fascino dei pattini a rotelle, 800 bambini e ragazzi arrivati da tutta Italia che volteggiano sulla pista del Palapanini di Modena, Tempio della Pallavolo. 60 volontari per rendere possibile questo spettacolo di danza e colori sulle note delle canzoni dello Zecchino d'Oro. La manifestazione è stata promossa dalla Fondazione Maria Leventre, ideatrice del piccolo coro dell'Antoniano di Bologna e dall'Unione Italiana Sport per Tutti.